L'edizione 2024 di Sentinelle del Mare è giunta al termine. Il bilancio dell'iniziativa ideata dall'Università di Bologna in collaborazione con Confcommercio ha fatto emergere un forte coinvolgimento tra cittadini, turisti e giovani studenti. Questa edizione era la prima dopo lo stop a causa della pandemia, una ripartenza necessaria in quanto il mare è una risorsa preziosa per il nostro pianeta che va tutelato e protetto. Negli ultimi anni abbiamo assistito a una forte crescita dell'inquinamento marino con effetti devastanti sulla biodiversità dei nostri mari, sulla salute degli oceani e sull'uomo stesso. Attraverso una scheda di rilevamento facile da usare chiunque può diventare una sentinella del mare e contribuire a raccogliere dati preziosi per la salvaguardia del nostro pianeta. I dati raccolti dall'iniziativa aiuteranno gli scienziati a monitorare lo stato di salute del mare e a identificare le minacce alla biodiversità marina. Informazioni come la presenza di specie invasive, la quantità di rifiuti in mare e la salute dei microorganismi sono solo alcuni esempi dei dati che le sentinelle del mare possono raccogliere. Nelle nostre coste dall'Erice a Monterosso per due settimane la biologa Chiara Cassarino ha accompagnato i bambini della scuola primaria di Monterosso alla scoperta degli abitanti del mare attraverso giochi ludico-educativi con l'obiettivo di stimolare la loro curiosità e spiegare come contribuire a proteggere e preservare i nostri mari. Ma non solo perché essere parte di questo progetto sono stati anche i semplici bagnanti che si sono dati appuntamento presso gli stabilimenti balneari di Monterosso, Bagnalga, Feggina e Stella Marina. Attraverso semplici attività di snorkeling hanno potuto contribuire a questo ambizioso progetto di ricerca, rilevanti anche le attività che si sono svolte a Lerici tra cui una collaborazione con il Circolo Erics di Lerici e diverse uscite diving organizzate grazie all'appoggio offerto dalla tribù Academy di San Terenzo. Le iniziative si spostano ora nel resto dello stivale e al termine della stagione i dati verranno elaborati dall'Università di Bologna restituendoci un'immagine dello stato di salute del nostro mare. Confcommercio ringrazia tutti i partner che hanno contribuito a questo progetto. Oltre alle attività e alla scuola coinvolte un ringraziamento va anche al Comune di Lerici, al Parco Nazionale delle Cinque Terre che hanno patrocinato le iniziative.